Nessun allarme né allarmismo alla Tarros Spezia per quelle due sconfitte su due amichevoli con cui i bianconeri hanno aperto la stagione del basket diciamo giocato. Sconfitta netta peraltro sia quella Cecina sia quella in casa contro il Lucca a cui si riferiscono queste immagini ma tutto per adesso almeno pare rientrare nella normale amministrazione o meglio carburazione. I primi due test non sono andati benissimo almeno come speravamo però siamo fiduciosi perché stiamo lavorando bene, ci impegniamo ogni giorno dal primo minuto in palestra e quindi nonostante non siamo riusciti ancora a entrare bene negli schemi non siamo preoccupati perché siamo una squadra nuova, ci dobbiamo ancora conoscere e con il duro lavoro sicuramente le cose non potranno che andare meglio.